Il campo basso sicuramente è una squadra molto forte, in forma. Noi ci ricordiamo molto bene la partita dell'andata, ma penso se la ricordiamo bene anche loro. Penso che abbiano ancora un po' la mare in bocca, quindi sicuramente vengono qua per cercare la rivincita. Inoltre per loro questi due punti sono fondamentali perché stanno giocando al sesto posto contro Corragusa, quindi sicuramente vengono qua per vincere a tutti i costi. Noi dalla parte nostra ovviamente non abbiamo più quelle pressioni di playoff, perché appunto l'obiettivo playoff è spumato e siamo sicuri di questa nonna posizione, però comunque ci teniamo a fare una bella partita perché siamo in casa e perché è l'ultima partita della stagione e sicuramente durante l'anno abbiamo dato non molte soddisfazioni in casa ai nostri tifosi, per cui ci teniamo questa volta, che è l'ultima, a ringraziarvi del loro supporto. Domenica dopo la partita ci sarà la serata VIP, sicuramente intanto è bello che si ricominci a farla dopo diversi anni in cui non c'è stata. Io ho già avuto l'opportunità di partecipare a diverse serate VIP e devo dire che sono molto belle, soprattutto per le bambine e le ragazzine, insomma per noi era bello poter condividere il campo con le giocatrici di Serie A, per cui sicuramente spero che anche domenica per le bambine al minibasket e per le ragazze ci sia la stessa emozione di condividere il campo con noi. Poi sicuramente è bello vedere il palazzetto pieno, non solo sulle tribune ma anche in campo, perché è bello vedere quante squadre ci siano dal minibasket alla uno. Quindi vi aspettiamo domenica al palazzetto per supportarci durante la partita e soprattutto anche per la serata VIP per ringraziarvi di tutto il sostegno e il supporto che ci avete dato quest'anno. Grazie.